ora vi faccio vedere come si fa il nodo della cravatta piccone che me lo domanda sempre a me oggi gli ho detto di no vale tutto a posto a me dai fammi finisci la busta fatti il nodo della cravatta fai il nodo della cravatta e non lo so fare provaci devi provare compa non è possibile che mi domandi a me il nodo della cravatta da vent'anni fatti un nodo della cravatta ma non lo sascio fare fai il nodo della cravatta ho spiegato mille volte faccio un fiocco fammi sto nodo questa cosa basta